Salve ragazzi, bentornati su Yodepixchan, chi vi parla è sempre vostro amichevole mago di paese e oggi visto che è domenica e per divertirci facciamo un po' di pulizia rive, ne approfittiamo per fare la recensione di un attrezzo agricolo veramente fondamentale, un attrezzo agricolo che vi cambia la vita ma che non costa decine di migliaia di euro ma poche decine di euro e stiamo parlando di questo, il tiratronchi. Questo nello specifico è un tiratronchi della Stubai che rispetto alla media è un po' più accessoriato, possiamo vedere che oltre al dente d'aggancio ha questa dentellatura superiore che ci consente di tenere fermo il dente quando scattastiamo un legno sostanzialmente e in più a differenza di magari altre che si trovano in giro con il manico dritto questo è un manico sagomato con un fine corsa che vi permette di non farlo scivolare da in mano quando tirate perché il tiratronchi ovviamente la telecamera non è in dotazione perché il tiratronchi ci cambia la vita beh visto che un video vale più di mille parole è inutile parlarne usiamolo e vediamo perché fa la differenza, pronti? Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!